Grazie a tutti. Sulle strade salernitane in questo terribile mese di agosto. Famiglie la cui felicità si è interrotta magari proprio sulle strade per le vacanze. Un elenco che deve far riflettere sulla necessità di investire maggiormente sulla sicurezza. Vediamo il servizio. Sulle strade salernitane in questo mese di agosto. E' inquietante e terribile. Un elenco tragico di persone che hanno perso la vita macchiando di sangue le strade della provincia da una parte all'altra. Ieri l'assurda e tremenda morte di Raffaele Frigenti appena 19enne alle 6 del mattino in via Zeccagnolo a Pagani. La sua auto è finita contro un'autocisterna e per lui è stata inutile la corsa in ospedale. Solo qualche ora prima, nel pomeriggio di martedì a Ponte Barizzo sulla statale verso Capaccio, l'assurda morte di Virginia Scarfato, 40 anni, era in auto con il marito e i figli quando l'auto è finita contro il guardrail che si è infilzato come una lama nella vettura trafiggendo la giovane mamma. Un'altra famiglia distrutta lo scorso 10 agosto. Lungo l'autostrada 2 del Mediterraneo, tra i caselli di Eboli e Campagna, nel terribile e violentissimo impatto frontale, persero la vita padre e figli originari residenti a Caltanisetta, dove stavano ritornando dopo una trasferta di lavoro a Roma. L'estate nera non ha risparmiato neanche la costiera amalfitana. Il 18 agosto, in un altro terribile scontro, questa volta tra ciclomotori sulla statale 163 al Bivio per Vettica Maggiore, ha perso la vita il giovane Pietro Villani. Aveva solo 15 anni. Ne aveva qualcuno in più di anno, 24 per la precisione, il giovane portapizze Francesco Troisi, che pochi giorni prima di Ferragosto, proprio mentre stava portando le pizze ai clienti del locale presso cui lavorava, ha travolto una donna ed è caduto sull'asfalto battendo la testa. Dopo alcuni giorni nel reparto di rianimazione dei ruggi, il ragazzo non ce l'ha fatta. Ma il 17 agosto il comune capoluogo ha dovuto fare i conti con un'altra assurda tragedia delle strade. A Giovi Montena un'auto con quattro persone a bordo, i medici Bruno Scannapieco e la moglie Maria Russo con la figlia Adriana ed un'amica Eleonora Volpe sono precipitati in un dirupo. Due giorni fa Eleonora non ha superato le gravi lesioni ed è deceduta mentre restano gravi le condizioni di Bruno. Un elenco davvero amaro e triste da leggere che non punta il dito contro nessuno. Tante svariate sono le cause che possono celarsi dietro ogni sinistro. Un elenco però che invita ad una riflessione. Forse serve davvero fare di più per la tutela e la sicurezza sulle strade, nelle scuole, nelle famiglie ma anche da parte di tutti gli enti che sono tutelati a garantire le buone condizioni delle arterie e la sicurezza stradale. Un bilancio terribile, una sorta di bollettino di guerra. Intanto a proposito dell'ultima vittima del 19enne, Raffaele Frigenti, una veglia raccolto e convogliato il dolore per la tragica scomparsa del giovane avvenuta soltanto ieri mattina a Pagani. Vogliamo pregare per Raffaele perché si è accolto nella comunione dei Santi. La chiesa Santa Maria delle Grazie di Casatori gremita per la veglia di preghiera per Raffaele Frigenti. Il 19enne morto a causa del tragico incidente avvenuto ieri in via Zecca Agnolo a Pagani tra l'auto condotta da ragazzo ed un'autocisterna che viaggiava nella direzione opposta. L'improvvisa tragedia ha scosso due comunità, quella di Pagani e quella di San Valentinatorio, ma anche l'agronocerino sarnese. La notizia dell'incidente ha provocato un immenso dolore tra coloro che conoscevano il giovane Raffaele, ma anche tra chi ha saputo della sciagura. Numerosi i messaggi di corduoglio pubblicati sui social network, nelle parole degli amici, traspare il ricordo di un giovane socievole con tutti. Era un ragazzo solare, aveva un sorriso bellissimo, è uno dei pochi che diciamo era socievole con tutti, amichevole, pochi ragazzi oggi sono così. Più che altro quando veniva a casa mia a giocare con la Playstation con mio fratello, quando facevano le due del mattino insieme sempre a mio fratello. Noi siamo tutti vicini, tutta Casatori, siamo vicini alla famiglia. Raffaele è un grande ragazzo, sempre sorridente, è stata una brutta giornata sapere questo evento, è bruttissimo, riusciva a rallegrare le giornate, usciva un ragazzo speciale d'oro, non si può dire nulla. Un ricordo bello di lui, quando andavamo a prendere la patente insieme, cioè è spettacolare, perché andavamo in bici e stavamo quasi tutti i giorni insieme, quindi un ricordo bellissimo. Abito sono corso in ospedale per vedere come stava, ma non ho fatto in tempo, cioè non ho fatto in tempo. Lo conoscevo, era un bravo ragazzo e mi dispiace per l'accaduto. Mi è dispiaciuto molto e quando l'ho saputo non volevo crederci. La prima cosa che ho pensato è il dispiacere, tante cose. In quel momento non sapevo nemmeno io cosa fare. Questo è un dolore forte che per i genitori è stato bruttissimo. Mi dispiace per loro, per tutti, per tutti. Ultima pagina. Come annunciato in prefettura nella riunione operativa oggi a Battipaglia, all'ospedale hanno preso ufficialmente il via alle operazioni di sgombero in vista del disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale previsto per l'8 settembre. È stata avviata la fase 1 dell'evacuazione per il disinnesco dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rivenuto a Battipaglia. Se le operazioni cru si terranno come stabilito domenica 8 settembre, al via c'è la fase preliminare che interessa in questo caso l'ospedale Santa Maria della Speranza. Da ieri 28 agosto il nostro comio battipagliese non accetta nuovi ricoveri. La struttura ospedaliera, peraltro, è a pochi metri in linea d'aria da località Villani, dove nel marzo scorso c'è stato il rinvenimento in un terreno agricolo della bomba. È iniziato quindi gradualmente il trasporto presso altri presidi della provincia dei pazienti già ricoverati a Battipaglia. La misura, fa sapere l'ASL Salerno, in una nota rientra nel piano di evacuazione nel raggio di 1,6 km dell'ordigno bellico concordato con la prefettura di Salerno. Le attività di evacuazione e trasferimento saranno effettuate nel rispetto delle esigenze dei pazienti e sotto lo stretto controllo del personale medico infermeristico delle forze dell'ordine. Il ripristino delle normali attività è previsto per lunedì 9 settembre. Nei giorni dal 28 agosto al 9 settembre l'ospedale resterà chiuso agli ingressi programmati, mentre sarà assicurato fino alle 23.30 del 5 settembre l'accesso al pronto soccorso. Torniamo a Salerno. Dopo il no del comune all'ipotesi di istituire spazi per il parcheggio sul lungomare, la nuova associazione tra operatori e commercianti rilancia la necessità di attivare protezione maggiore rispetto per le regole. A San Pietro a Corte parcheggi contro ogni divieto. Auto parcheggiate in completa indifferenza rispetto al cartello che ne fa divieto, un camioncino che per eludere le telecamere della zona traffico limitato oscura la targa del veicolo. Ecco cosa accade ogni giorno in largo San Pietro a Corte, nel cuore di Via Canali, sede di uno dei più preziosi documenti archeologici e longobardi della storia salernitana. Queste immagini fotografano come la difficoltà di trovare parcheggio a Salerno abbia di fatti ottenuto come soluzione l'evasione di ogni regola. Di notte è anche peggio con le isole pedonali che tra motocicli e auto diventano pisse sotto controllo. Ed è anche per mettere ordine e garantire maggiore rispetto delle regole che la nuova associazione che si è costituita tra commercianti e operatori della Movida, ACS, insiste e rilancia una serie di proposte operative all'amministrazione comunale di Salerno che ha rigettato l'ipotesi in attesa di aprire il parcheggio di Piazza della Libertà di istituire delle strisce per la sosta sul lungomare cittadino. Abbiamo registrato l'ennesimo no alle proposte venute da questa nuova associazione che noi come commercianti e come associazione di mercanti del centro storico abbiamo abbracciato e sposiamo la causa. Le esigenze sono le stesse. L'associazione di commercianti per Salerno ripropone il problema posti auto per quanto riguarda il centro storico e il centro della città. Sono stati presentati vari progetti all'amministrazione, l'ennesimo no, ci aspettavamo ed è arrivato. A questo punto però noi vorremmo che l'amministrazione, visto che combattiamo da dieci anni con questa esigenza della mancanza dei posti auto e sembrerebbe che l'apertura della sottopiazza della Libertà sia slittata all'autunno del 2021, a questo punto aspettiamo dall'amministrazione delle proposte, delle soluzioni anche d'emergenza, anche tappandoci in naso, trovandoci in naso trovare delle soluzioni che possono incrementare il numero di posti auto a Salerno. Dall'incontro con questa associazione è venuta fuori anche l'esigenza di altre problematiche di sottolineare altre problematiche all'amministrazione come la pulizia del centro storico che ormai è lasciata a sé, ognuno di noi pulisce il pezzo di strada avanti al proprio negozio e vorrei dire che noi paghiamo anche una tarso abbastanza corposa, per cui oltre il danno anche la beffa. Uno sportello per denunciare eventuali ricatti. È l'ultima singolare iniziativa del consigliere di minoranza del Comune di Salerno, Dante Santoro, che ha attivato un punto di ascolto anonimo in collaborazione con il Movimento a difesa del cittadino. Ascoltiamo. Oggi è un giorno importante per la città di Salerno, per il Comune di Salerno e non solo. Inauguriamo lo sportello anti ricatti. Sì, parliamo di ricatti, parliamo di distorsioni che utenti, cittadini, lavoratori possono ravvisare e riscontrare entrando in contatto con la pubblica amministrazione, entrando in contatto con il Comune di Salerno. Perché abbiamo avuto segnalazioni di episodi incresciosi, dove spesso i diritti della collettività vengono confusi come concessioni o lemosine date da qualcuno. Una pratica che per troppi anni è andata avanti in questa città. Allora noi vogliamo ricordare a chi rappresenta gli enti pubblici che i diritti dei cittadini corrispondono a doveri di chi opera. Mai più vogliamo vedere spazi pubblici, mai più vogliamo vedere uffici pubblici trasformarsi in comitati elettorali o, peggio ancora, in comitati d'affari. Quindi noi metteremo una lente di ingrandimento sull'operato di chi deve rappresentare le istituzioni in maniera terza e imparziale, a prescindere dalle nomine politiche. Andremo anche lì, nella società partecipate dalle governance, a tutelare spesso i lavoratori stessi, di questi enti che sono stati abituati a determinate pratiche che fanno confondere il Comune di Salerno con comitati elettorali personali di qualcuno. Resta in prognosi di riservata la donna che ieri a Teggiano, mentre rincasava, è stata violentemente aggredita dall'ex marito. Aggressione in pieno centro a Teggiano nella tarda serata di ieri, quando una donna, mentre rientrava a casa, è stata aggredita violentemente, pare, dall'ex marito. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, all'incrocio tra via Gaetano Amalfi e via Monsignor Stefano Macchiaroli, dove, secondo quanto emerso, la giovane donna sarebbe stata raggiunta dall'uomo che l'ha poi picchiata violentemente. Le urla di richiesta d'aiuto della donna hanno allertato i residenti dell'area che sono subito accorsi in suo aiuto, trovando la ferita. La giovane è stata quindi soccorsa dopo che l'uomo si era allontanato. Adarraggiungerla familiari e amici che, viste le ferite e gli ematomi sul volto e sul corpo della ragazza, hanno deciso di accompagnarla presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stata sottoposta alle prime cure. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, seppur pare che dopo un iniziale ricovero presso il reparto di neurologia, si è deciso di trasferirla presso un'unità operativa di terapia intensiva, dove è tuttora ricoverata e in prognosi riservata a seguito dei traumi riscontrati. Non si conoscono le cause che hanno provocato il violento litigio e la folle aggressione e i danni della donna. Resta lo sgomento tra la comunità per quanto accaduto. Parliamo di sanità. Restiamo in provincia, non c'era in ferriore. Abbiamo spesso raccontato di episodi di violenza che vedono pazienti o familiari aggredire, operatori sanitari, in situazioni di disagio attese troppo lunghe. All'ospedale Umberto I di Nocere Inferiore accade però anche il contrario, e cioè che a perdere la pazienza sia un operatore sanitario. Vediamo. Il modo ancora m'offende è proprio il caso di dirlo quando si tratta del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocere Inferiore, dove si urla e si perde spesso la pazienza. I protagonisti in negativo non sono però gli utenti, che pure hanno le loro responsabilità, ma alcuni operatori sanitari. Uno in particolare, un medico, sarebbe spesso il coprotagonista di momenti concitati nelle sale d'emergenza al piano terra della struttura di Viale San Francesco. Il problema non è la procedura, che nella maggior parte dei casi il camice bianco in questione fa rispettare la lettera, ma le modalità utilizzate nel rapportarsi con i pazienti e i loro familiari. Ecco perché la citazione dantesca sembra calzare a pennello. L'ultimo episodio è capitato ieri, quando il medico si è scontrato con la mamma di un ragazzino di 11 anni, portato al pronto soccorso, confiato corto, pallore, in preda ad un collasso, ha riferito la donna. Gli infermieri sono stati ineccepibili, ha detto la madre, gentilissimi, lo hanno sottoposto ad un immediato elettrocardiogramma, poi tutto è precipitato. Ho sentito una donna strillare, ha raccontato la signora, poi ho capito che si trattava di un medico che diceva all'infermiere di lasciare il paziente, staccare tutto e trasferirlo, senza nemmeno vederlo, in pediatria. La competenza in questi casi è del reparto al primo piano. L'undicenne è stato così portato su, ma nel frattempo la madre ha detto che non erano quelli modi da utilizzare nei confronti di chi si era recato al pronto soccorso. Fortunatamente il ragazzino sta bene, ma il teatrino, verificatosi al pronto soccorso, lo dimenticherà difficilmente. Per gli stessi attriti, sia ieri che in passato, sono dovuto spesso intervenire le forze dell'ordine. Questa routine è nota anche ai vertici aziendali, sollecitati più volte a prendere provvedimenti. Ci sposiamo nella Valle dei Templi, a Capaccio Pestum, il sindaco Franco Alfieri ha deciso di dare battaglia contro gli scarichi abusivi e dopo le ultime operazioni che hanno confermato purtroppo la presenza di aziende non corrette, il primo cittadino ha emanato una durissima ordinanza sindacale. Pugno di ferro del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, contro lo sversamento abusivo dei reflui zootecnici nei corsi d'acqua sul territorio comunale. Il primo cittadino, infatti, con una durissima ordinanza sindacale, ha intimato a tutti gli allevatori e caseifici capacesi di dimostrare all'ente civico, entro 30 giorni, la propria capacità di smaltire adeguatamente, secondo legge, i reflui e liquami prodotti. Un provvedimento senza precedenti nella città dei Templi, che di fatto inchioda e mette con le spalle al muro le aziende del comparto Bufalino. Chiamate ora a dimostrare, carte alla mano, di essere in regola con tutte le normative vigenti in materia. Richiamate una per una nelle 20 pagine d'ordinanza a firma di Alfieri, che al contempo ha demandato all'Avvocatura Comunale, di predisporre la costituzione di parte civile del Comune di Capaccio Pestum, in tutti i procedimenti penali in corso e futuri, inerenti scarichi illegali e inquinamento ambientale, con annessa richiesta di risarcimento danni. Nello specifico, è fatto obbligo alle aziende zootecniche ed attività lattiero casearie operanti sul territorio comunale, la presentazione entro 30 giorni di idonea documentazione tecnico-illustrativa del sistema di gestione dei refri zootecnici, atta a dimostrare la congruità tra la capacità di stoccaggio e spandimento degli stessi e l'effettiva consistenza dell'allevamento. Chi non è in regola rischia la chiusura dell'attività e il ritiro delle concessioni o autorizzazioni godute, con relativa segnalazione alle autorità competenti. Tutta la documentazione dovrà essere presentata a mano direttamente dai legali rappresentanti delle aziende capacesi investite dal provvedimento sindacale. In caso di nottemperanza scatterà automaticamente una sanzione di 500 euro, con l'applicazione di quanto previsto in caso di violazioni dal codice penale. Un'ordinanza, quella di Alfieri, che di fatto consentirà all'ente civico di ottenere una radiografia aggiornata dalla situazione, azienda per azienda. Si preannunciano tempi molto duri, dunque, per chi inquina o non rispetta gli standard imposti dalla legge. Ben trovati, la seconda parte dell'informazione di TV Oggi Salerno ha fratte una petizione per chiedere la riapertura dell'ufficio Anagrafe, chiuso oramai dal 26 maggio scorso. Una petizione tra i residenti delle frazioni alte di Salerno per chiedere di riaprire la sede dello sportello Anagrafe, stato civile nel quartiere di Fratte. A promuoverla sono alcuni cittadini insieme alla Casa del Popolo, esasperati dalla chiusura dello sportello. Dal 29 maggio di quest'anno la Sara Cinesca della sede è abbassata con una comunicazione di chiusura temporanea per problemi tecnici, che doveva durare però fino al 26 giugno. A distanza di 40 giorni da quella scadenza, gli uffici non sono ancora riaperti. Il timore della popolazione è che, come per altri quartieri, come già avvenuto a Mariconda, il Comune abbia tagliato la sede periferica, che a Fratte serve anche le popolazioni di Matierno e Doiara. Da qui l'iniziativa dei residenti di lanciare una petizione. L'ufficio è utile ad una popolazione molto numerosa, che tra l'altro non è ben collegata con il centro della città di Salerno, dove si troverebbe l'altro ufficio utile per ottenere le stesse certificazioni, quindi con una serie di disagi che non è giusto tollerare. E' il momento della pagina degli appuntamenti, curata come sempre dalla nostra Barbara Albero. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinemateatro San Demetrio e di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Il Re Leone, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Le previsioni meteorologiche della nostra redazione, poi una breve pausa di comunicati commerciali ed infine all'ampia pagina sportiva. In collaborazione con P-Form, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania. Offre servizi rivolti a tutti coloro che vogliono investire nella propria formazione e fornisce risposte efficaci a soddisfare il bisogno di sviluppo delle professionalità. P-Form e Agenzia per il Lavoro, accreditata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre a fianco di aziende e lavoratori, per promuovere l'incontro tra domanda e offerta. P-Form Salerno P-Form.it Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Bentornati all'ampia pagina dello sport. Prima parte dedicata, come sempre, alla Salernitana. Entra nel vivo il mercato Granata. Arriva il primo dei due rinforzi richiesti a gran voce da Giampiero Ventura. Il club di Lotito e Mezza Roma si è assicurato i servigi di Pierluigi Pinto, classe 98, scuola fiorentina, lo scorso anno ad Arezzo. Occhio anche alle uscite. È notizia dell'ultima ora il forte interesse del Palermo per Milan-Diuric. Vediamo. Un giovane rinforzo per la retroguardia Granata ed il pressing del Palermo per Milan-Diuric. Pierluigi Pinto, classe 98, è il nuovo corazziere per la difesa di Giampiero Ventura. Il club rosa-nero, invece, sta facendo carte false per avere Diuric nella terra dei ciclopi. E tornare, quanto prima, tra i professionisti. Inutile dire che la categoria è uno scoglio al momento considerato troppo alto dalla rete bosniaco per accettare le avance dei siciliani. Il blasone della piazza, oltre ad un accordo di massima anche per le stagioni successive, potrebbe essere il Grimaldello per uscire dall'impasse e convincere Diuric ad accettare il doppio salto indietro in categoria e ripartire dai direttanti. Staremo a vedere. Capitolo Pinto. Il giovane centrale difensivo di piede sinistro, cartellino della Fiorentina, lo scorso anno ad Arezzo dovrebbe essere la valida alternativa al polacco Jaroszynski, a meno che Ventura non decida di avanzare l'ex Genoa in mediana. Pinto, assistito dalla scuderia Corvino-Coscia, si trasferisce all'ombra della Rechi già da oggi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club Granata. L'arrivo di Pinto non esclude in maniera definitiva l'arrivo di un altro difensore di piede destro, possibilmente per rinforzare il pacchetto arretrato. Resta sempre sul tachino il nome di Dermacu del Parma. Le eventuali cessioni di Diuric e non solo consentirebbero alla Salernitana di poter effettuare qualche colpo last minute. Il nodo principale è rappresentato dal futuro di Alessandro Rosina, giunto all'ultimo dei suoi quattro anni di contratto con il club dell'Ippocampo. Dopo aver trattato con Alessandria Dentella ed essere stato accostato al Monza, Rosina è ancora a Salerno in attesa di una svolta che potrebbe non esserci, anche perché la società Granata non pare disposta a concedere al calciatore una buona uscita particolarmente cospicua. Fuori dai piani anche Altobelli, che ha diverse richieste dalla terza serie, Alessandria, Trestina e Monza sono a caccia di un rinforzo in mediana e stanno valutando anche l'ex Ascolano, che in B piace a Lentella. Legato da altri due anni di contratto alla Serenità, Naltobelli potrebbe partire in prestito. In scadenza c'è il venezuelano Franco Signorelli, che piace tantissimo all'Avellino, che però ha un budget limitato, ed ha una vecchia promessa alla Triestina, che gli aveva chiesto di aspettare la partenza di Coletti, appena passato al Cerignola. In uscita Calombo e Morrone, mentre Perticone, appena reintegrato, potrebbe anche salutare subito dopo la gara di Cosenza. Ufficializzato il prestito dalla Lazio del polacco Gijek, la Serenitana non pare orientata ad operare in entrata dalla cintola in su, a meno che non ci siano, come detto, delle partenze. Tutto però potrebbe essere rimandato a lunedì prossimo, ultimo giorno di trattative, quando tutti gli operatori di mercato saranno presenti a Milano. Ed un grosso in bocca al lupo al me della Casertana. Era questa l'ultima notizia, l'informazione di TV Oggi Salerno, quella sportiva e quella di Cronaca. Ritornano alle prossime edizioni. Buon proseguimento con il palinsesto e la programmazione della nostra emittente. Grazie per averci preferito. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.